Si è tenuto alla Dacia Arena l'evento organizzato da FIPE, Federazione Associazione Italiana Paratetraplegici, LEA e Nomenclatore Tariffario, dagli ausili monouso al pieno diritto di cittadinanza per le persone con disabilità. L'obiettivo di questo incontro è stato illustrare le possibilità di scegliere gli ausili disponibili da poter dare alle persone in carrozzina, che possono essere anche monouso. Tema centrale di questo avvenimento è garantire le libertà di scelta da parte di tutte le regioni italiane. La Dacia Arena si conferma ancora una volta un ambiente accessibile e accogliente per eventi di ogni genere, anche per persone disabili. Un evento che parla di disabilità, abbiamo voluto e ottenuto grazie all'intervento dell'Udinese Calcio la possibilità di parlare di disabilità all'interno di uno stadio dove a volte spesso si parla di sport, si parla di campioni e oggi i campioni sono le tante persone con disabilità e nello specifico con lesione al midollo spinale. Avete scelto la Dacia Arena perché si tratta di un luogo totalmente accessibile anche ai disabili. È uno dei pochissimi luoghi a Udine che garantisce la piena accessibilità alle persone che vivono con una lesione midollare e quindi usano una sedia a rotelle per i propri spostamenti. Questo ha fatto riflettere, dovrà far riflettere le amministrazioni pubbliche, le nostre istituzioni, perché la disabilità non è una malattia, la disabilità è l'interazione con l'ambiente esterno. Più ostile questo è, più viene elevato il grado di disabilità. Limita sicuramente un diritto che è quello del diritto di cittadinanza per i tanti cittadini con disabilità che vivono in questa regione. Le persone disabili sono persone come tutti gli altri, vogliono esercitare i propri diritti e vogliono partecipare alla vita pubblica. Come tanti disabili che oggi hanno partecipato a questo convegno e sono disabili di successo, hanno fatto tante cose nella loro vita, così dobbiamo dare la possibilità a tutti di diventare persone importanti e persone di successo. Nella nostra associazione nel tempo abbiamo creato tantissimi eventi sportivi dando importanza e nuovamente dignità alle persone disabili. Per esempio io mi sono gettato dal paracadute, ho fatto il subacqueo, ho fatto un maratone in Sud America. Quindi sono eventi che fanno vedere che la disabilità è un qualcosa che si può superare con degli strumenti appropriati come abbiamo sottolineato oggi in questo bellissimo stabile che ci ha ospitato. Grazie.